Allora, Erasmus, scena 1, prima Silenzio Silenzio Ti vedo Massimo, ti vedo Qui? Qui no Silenzio Luis Silenzio 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 Qui? Trova È troppo! È troppo, sì? Sì, è troppo! Però... C'è la truta e... Non mi piace! Ma anche io mi piace! No, fai schifo! Quale ti piace quello di tre? Questo! 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 A me mi piace questo! No, questo fai schifo! E tu quale ti piace? Niente! Ah, va bene! Mi piace ricompare questo! Quindi domani se lo vengono! Però... Costa tanto! Anche quello che c'è di là! Guarda com'è bello! Sarina! Guarda quello che c'è dentro! Ah, mi piace quello! Qual è? Quello rosso! Rosso! Ma anche io mi piace! Sì, quello è bello! Anche quello bianco mi piace comprare! No, questo fai schifo! Quello! Qual è questo? Ma però è troppo grande per me! Guarda! Per mia nonna! Per mia nonna! Per mia nonna! Quell'altro mi piace comprare! Vabbè! Ma tu ti vuoi? Oh! È quello di... No! Che venuta al nostro... Ristorante, no? Sì! Sì! Oh! È loro! Guarda con ferito! Anche quello con l'occhio nero! Vabbè! Sì! Oh! È loro! Sì! Guarda! Guarda! Oh! Allora! Come and I! Ciao! Come and I! Come and I! Vabbè! Come and I... Ciao! Anche cosa ti vuoi! No, non vi e insieme. Si, i attacchi a casa, e i viagra, e io viagravo in casa, ok? Ok, grazie mille! Grazie mille! Grazie mille, grazie mille! Grazie mille!